Andiamo nel falsetto, la comparsa di una sola, una sola o pochissime armoniche, e nel falso cordale invece è la presenza di questa struttura di rinforzo armonico superiore a periodi. Vediamo cosa succede nella tua laringe. Vedremo tre esempi, l'alternanza tra il falsetto, il meccanismo 2, e il falso cordale, quindi il meccanismo 0. Questa era l'alternanza falsetto e il meccanismo falso cordale, la vibrazione che vedevate, il suo movimento che vedevamo delle aritenoidi era legato semplicemente invece alla comparsa del vibrato, del vibrato laringeo. Vediamo invece il falso cordale glissando dal frai, frai falso falso cordale, vedete la vibrazione delle falso corde, è come se fosse saltato completamente il meccanismo 1, perché passa dal meccanismo 0 al meccanismo 2. falso cordale, vei la vibrazione delle falso corde, sulle falso corde, e lui fa il secondo 팔, grazie anche l'alternanza tra la voce piena, il primo 1 quindi, e lui fa il secondo. Sì. Vediamo una esemplificazione alla quale chiedo ad Albert di collegarsi e proseguire magari con un'improvvisazione se se la sente. Vediamo una esemplificazione alla quale chiedo. Vediamo una esemplificazione alla quale chiedo ad un'improvvisazione alla quale chiedo ad un'improvvisazione alla quale chiedo ad un'improvvisazione. Vediamo una esemplificazione alla quale chiedo ad un'improvvisazione alla quale chiedo ad un'improvvisazione. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.